Ma 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 E avrò ticoli loro, per i pagodi, della spena e di rossioni, sull'isciago e sui zamponi. Le domine sono strane, lo gelacole, poi le storie sto dispetto, con un uomo dentro il vesto. Lei ti brinda un po' di spesa, non è l'ora della spesa, nei trattati di cantini e i vestiti a fioravini. Le domine sono strane, lo gelacole, poi le storie sto dispetto, con un uomo dentro il vestito. Lei ti brinda un po' di spesa.